Fondi in arrivo per i lavoratori calabresi in mobilità in deroga, dunque una boccata d'ossigeno, almeno per questo fine anno, per gli ex operai del comprensorio tirrenico espulsi ormai da anni dal mercato del lavoro, ad annunciarlo Franco Martino, responsabile della CGL per l'area Pollino-Sibariti de Tirreno. Dalle notizie che abbiamo avuto a seguito della riunione di ieri presso il Ministero del Lavoro a Roma, sembrerebbe che ci sia stata questa volontà a indicare all'Inps di anticipare quando meno le risorse che erano già previste, quindi parliamo dei 30 milioni che già il Ministero si era impegnato a versare alle casse dell'Inps. Questo garantirà ai lavoratori in mobilità, quelli attualmente già in deroga, ad avere quando meno chi due e chi tre mesi a seconda dei pagamenti regressi, quindi significa che dovrebbero avere le mensilità di agosto e settembre chi è stato in mobilità fino a luglio, chi invece è stato pagato fino a maggio dovrà a sua volta ricevere le mensilità per coprire fino a settembre. Tra gli ex stipendiati interessati dal nuovo pagamento, gli ex marlane e non solo. Numeri critici, quelli indicati dal sindacalista, che possono essere abbattuti soltanto da mirate politiche industriali. Il bacino delle mobilità si è esteso un pochettino a tutti i settori, inizialmente con il tessile, ma ad oggi toccano i settori dell'edilizia, del commercio, tutti i settori. Il numero è abbastanza rilevante perché siamo arrivati nel 2012 a circa 20.000, se non oltre, 20.000 lavoratori in mobilità. Rispetto a quelle che possono essere le politiche di rilancio delle attività, qualsiasi estesine, industriali come del commercio, ovviamente è un discorso molto complicato da fare. Non è purtroppo una cosa che può risolvere la Calabria da sola. Non è un caso che è l'intera nazione che non ha un piano di rilancio industriale, tanto per essere chiari. Soltanto qualora si deciderà a livello nazionale su che cosa puntare, su quali tipi di attività industriali poter investire, potremo capire anche noi come Sud, in particolar modo come Calabria, come entriamo in un discorso di questo tipo.